In rari casi le nostre cornici possono arrivare al cliente con piccole parti danneggiate. Quando succede, dobbiamo essere in grado di rimediare al danno. Abbiamo pertanto creato questo video per mettere a disposizione del cliente destinatario una semplice tecnica di riparazione che consente di eliminare il problema in pochi minuti. Nel video vediamo una tipica rottura di un angolo della cornice. Stucchiamo la parte danneggiata usando una barretta di cera specifica per il restauro. La cera diventa tenera dopo essere stata scaldata con un accendino, quindi, mentre è calda, la si usa per coprire la mancanza di gesso. L'ultimo passaggio da eseguire per terminare questo facile procedimento di restauro è quello di applicare sulla superficie stuccata una cera spalmabile color oro. Lo scopo è di mimetizzare la stuccatura. Come si vede, l'effetto finale è davvero soddisfacente. Questi prodotti sono di facile riperimento su Amazon. In caso il cliente non riuscisse a comprarli, gli spediremo.